Buonasera, sono le 22.33 di venerdì 25 ottobre e andiamo a vedere che cosa è successo su Bitcoin dopo che ho fatto un bel esercizio di stile con la precedente analisi in cui ti dicevo guarda, se proprio non volesse andare a scendere, ragioniamo in termini teorici di che cosa può essere successo e ti avrei fatto vedere che cosa, che qui abbiamo avuto un ciclo giornaliero a 43 barre quindi ci siamo entro le 44, più che cosa, un raccordo tra cicli T-2 da due giorni qui trovi sempre la leggenda, fatto da 7 barre, quindi tutto corretto a livello teorico ok? Per cui che cosa è successo? Può tra l'altro ancora essere successo questo abbiamo avuto un ciclo a due giorni, un T-2 composto da un solo T-3, un solo ciclo giornaliero e poi un raccordo a compendio tra due cicli a due giorni ok? Questa è la centratura che mettevo come aggiunta se non fosse arrivata la discesa che era la primaria scelta ok? Primaria che però abbiamo cavalcato? Ecco purtroppo no come potresti vedere se entrassi nel gruppo premium, purtroppo questa discesa non ce la siamo fatta questa volta come sai su questo canale non prendo in giro la gente raccontando di trade mai fatti o che le azzecchiamo tutte, che siamo eccezionali, mitici, fantastici ma troverai anche andando a cliccare su errore ok? Che cosa? Che faccio degli errori che sono andato in stop loss che... qual è la situazione dopo aver fatto delle cose, vedi? Ce ne sono, eh? Inoltre sette anni e mezzo di vita del canale direi che qualche errore sicuramente lo abbiamo fatto mi avete detto nei commenti sotto ai video quando ho chiesto se ci sono altri trader che fanno questo genere di mea culpa se fanno degli errori se c'è qualcun altro che lo fa nessuno mi ha risposto per cui desumo che non ci siano altri trader particolari che ho scoperto che ce n'è uno che effettivamente lo fa da uno dei gruppi di trading che frequento su Facebook per cui direi che siamo... sono in scarsa, scarsissima compagnia perché tutti gli altri guadagnano sempre e io purtroppo qui non ho guadagnato questa volta per questo motivo ok, adesso andiamo a vedere però quella che era l'aspettativa principale che si è verificata ma che purtroppo io non ho colto e col gruppo premium ci siamo persi una buona discesa almeno fino a qua l'avremmo fatta poi con questa candela non so se avremmo proseguito, anzi, perdon almeno fino a qua poi con questo movimento non so che cosa avevamo fatto ma comunque sarebbe stato un bel gain, sicuramente un bel gain è preso tra l'altro da questa candela più o meno a questa altezza ma avevo purtroppo un altro indicatore che era lì e che faceva fatica a girarsi dalla parte giusta e ha avuto una giornata terribile perché? perché ho lottato con un trade per tutta la giornata su Mib alla fine sono riuscito ad uscirne quasi in pari ed ero stanco sinceramente alle ore 17.30 ho detto va bene così non ho voglia di rischiare un movimento di discesa che può esserci che mi viene dato dal Tecnica 2 non me la sento sinceramente, sono troppo stanco e non l'ho fatto ok? ho fatto il video per farti vedere con un esercizio di teoria che cosa si poteva fare un ciclo a due giorni può arrivare minimo a 48 barre quindi ti faccio vedere ancora che poteva essere fatto da un T-3 più un'aggiunta di un raccordo di grado T-5 perché come ti ricordo i raccordi li teorizzava già un certo Bayer e poi li ha portati in Italia il migliorino ed è ancora in essere questa possibilità qui è possibile ancora essere potenzialmente su un secondo ciclo vincolato a ribasso in questo momento il Tecnica 2 non mi sta dando particolari indicazioni sta provando a darmi un long ma tra il provare e accendere tutta la checklist e dirmi ok adesso ci mettiamo long ne passa sappiamo oltretutto come ti dico da oltre dunque gennaio 2018 ho iniziato a fare analisi su Bitcoin quindi da oltre sei anni e mezzo tra poco sette anni che il sabato scompaiono i volumi e anche per buona parte della domenica spesso si fa ben poco il rischio di aver fatto questa candela e poi di continuare a fare una quantità di inside pazzesca questa candela è inside e contenuta tra il massimo e il minimo di questa questa persino in questo questa sempre in questa verde e finché si rimane tra questo massimo e questo minimo regnerà l'incertezza e abbiamo voglia di fare trading il venerdì sera prima che arrivi una lateralità che è solitamente snervante rispondi tu alla domanda io ti dico che comunque questa centratura può essere ancora valida teoricamente può essere valida e dovrebbe riportarci teoricamente a fare determinati movimenti per ritornare a scendere eccetera eccetera ok la centratura principale oltre a questo esercizio di stile che avevi in questo video fatto appunto circa un giorno fa è questa la più semplice del mondo chiusura a 30 barre del nostro primo ciclo giornaliero quella che hai visto fino al video che ho fatto appunto prima secondo ciclo giornaliero vincolato sia ribasso che si è vincolato qui a ribasso poi ha sparato all'insù e quando è arrivato casualmente sul massimo del nostro canale ha iniziato a ritracciare l'ho fatto all'inizio piano poco convinto poi piano piano quando io ero già lontano appunto dal terminale è partito e devo dire che stavo assaggiando dei gelati che non avrei mai pensato di assaggiare in una gelateria ottima promenata dal gambero rosso insieme al proprietario che è una persona curiosa perché tratta anche un liquore che cita Tarantino in Death Proof a prova di morte che si chiama Chartreuse che io all'inizio non volevo provare ma poi quando me ne ha parlato così bene ho fatto che provarlo è caspita è forte è un po' dolce non è esattamente dolciasto come lo descrive Tarantino nel film ed è estremamente piacevole e quando mi voglio rilassare stacco faccio una bella passeggiata vado a prendere un gelato lì questa sera mi ha proposto dei gelati all'aglio ai funghi e al cos'era già al cavolfiore che sinceramente non avevo voglia di assaggiare per niente però caspita sono ottimi e ho scoperto che serve dei locali molto particolari di Torino e quindi e di Milano se non mi ricordo male non so se arrivi anche a Roma ma comunque sono rimasto piacevolmente colpito e sono molto felice di aver fatto questa pausa dal training che è stato veramente pieno di finte e tutto anche oggi in ogni caso ok l'ipotesi più semplice che già ti dava ieri sera poi si è rivelata corretta io mi sono stufato di vederlo andare su verso i massimi assoluti finché se non avessimo se avessimo superato questo massimo avrebbe funzionato bene l'altro discorso non l'ha superato ha iniziato a scendere mi spiace nella vita del trader capita anche questo stufarsi della giornata essere veramente stanco e non riuscire a prendere un trader e non andare in gain i fufa guru non te lo diranno mai io sono quello che invece preferisce raccontarti le cose come stanno e che non ho fatto un altro mirabolante gain con la GH e la E per questo motivo se dobbiamo rimanere sul canonico come già detto appunto qui abbiamo una condizione necessaria e sufficiente su questo minimo per la chiusura di un ciclo secondo T-3 che però attenzione può andare a cercare ancora un minimo eventualmente fino alla la quarantaquattresima barra che si chiuderà alle tre e mezza di questa mattina prometto di non essere davanti ai monitor perché sono cotto oggi ok stante questo noi però dobbiamo anche rendere conto all'inverso perché perché l'inverso a un certo punto dovrà chiudere ha fatto questa finta mirabolante di chiusura con la salita ok questa qua però dato che un ciclo giornaliero inverso dura almeno 24 bar e qui abbiamo chiuso 22 e noi a un certo punto ho fatto questo movimento l'inverso si muove così massimo minimo massimo adesso abbiamo fatto massimo minimo e stiamo aspettando un baffo di chiusura quello che io chiamo baffo di chiusura Migliorino non ne parlava gli altri mai sentite sinceramente come definizione ma io lo chiamo baffo e quindi ci servirebbe una salita ok entro quando un baffo di rimbalzo e siamo già a 31 barre anche qui entro la 44esima barra che chiude fortunatamente domani alle 9 no ho sbagliato il calcolo allora che chiude fortunatamente domani con la 45esima barra alle 8.45 di mattina sarò già sveglio potrò fortunatamente appunto andare a vedere dove siamo arrivati appunto con questo con questo baffo e mi interesserà soprattutto capire se siamo tornati qua sopra se siamo ritornati sopra alla media mobile che stava andando in Golden Cross perché abbiamo continuato a salire ma poi è stata trafitta ribasso appunto dai prezzi e in base a dove arriveremo a chiudere il nostro ciclo quinto ciclo giornaliero inverso potrò fare potrò dare tante informazioni dal grafico stesso rendiamoci conto che quando ho visto questo spike tornando ho detto ma siamo impazziti cioè va bene una discesa abbiamo rischiato fino a un certo punto che facesse una discesa parziale soltanto fino qua perché le candele viste adesso sono una cosa quando invece le vedi che si muovono sono un'altra a un certo punto non riuscivamo a scendere sotto questo minimo quello 67.370 ho detto attenzione perché a volte fanno la schifezza di non completarlo e non tornare qui sotto e invece non hanno avuto problema alla fine sono riusciti anche a fare quello e rispettare quello che è probabile che sia successo però occhio che dato che ti ho fatto vedere anche l'altra centratura quella di questo pomeriggio 43 barre più un raccordo perfetto a completamento anche di un t più 2 abbiamo la possibilità di far partire da questo minimo un altro t meno 2 scusa ciclo due giorni abbiamo da qui la possibilità di far partire un altro ciclo t meno 2 con il doppio del tempo minimo per far partire un ciclo giornaliero sì perché bastano 5 barre sopra un minimo come sai per far partire un giornaliero quindi abbiamo 13 qui il dubbio può esserci mi rendo conto mi rendo assolutamente conto che questo è un piano B ok perché abbiamo soddisfatto il movimento più classico che potevamo andare a fare nonostante tutta la finta rialzo che ha fatto nonostante questa bull trap che ha fatto ok però lo tengo ancora lì in un cantuccio e vedo che cosa succede perché come puoi vedere questo mercato pre-elezioni i mercati pre-elezioni e le cripto pre-elezioni stanno facendo delle robe che per carità ieri nel video ti avevo dato appunto questo movimento quando ho iniziato a sedire troppo ho detto ok se non supera questo si può ancora fare vediamo però strano l'ha fatto peccato non essere andati in gain ma bene non averci perso dei soldi questa è sempre la cosa principale la prima regola del trade è non perdere soldi altro da raccontarci certo assolutamente domani che cosa farò come di consueto aprirò la mattinata dall'ufficio con le live solitamente inizio con l'S&P 500 in cui puoi farmi tutte le domande che vuoi poi potrei fare Ethereum o fare un passaggio su Bitcoin se ci sarà qualche cosa interessante da dire per cui dalle 10 in avanti se sei iscritto anche qui al canale di Telegram ok è voluta Jacopo Marini trading solo questo perché ce ne sono altri chiamati Jacopo Marini ce ne sono tanti con scritto evoluta ce ne sono tanti con la mia faccia li hanno utilizzate sono stati utilizzati da delle persone che li hanno creati per provare a vendere prodotti crypto non vendo niente assolutamente nessun pacchetto di nessun tipo come sai questo è il canale appunto ufficiale se vuoi sapere quando usciranno le live l'orario preciso esatto solitamente avviso un quarto d'ora prima potrei vedere appunto S&P500 Ethereum e poi vedrò se avrò tempo per fare anche il DAX ma non so se farò appunto live e vedremo se ci sarà il tempo appunto per un aggiornamento su Bitcoin trovi qua come di consueto oppure se ti iscrivi al canale riceverai come di consueto l'avviso se preferisci avere tutto su Telegram ce l'è qua se no anche X è quello che vuoi intanto i link come vedi li trovi qua sito canale Twitter che non mi fa impazzire ma lo tengo ancora vivo gruppo Facebook pagina Facebook di analisi evoluta e sai dove puoi essere appunto avvisato giusto un altro annuncio non avevo tantissima voglia già di di darlo ma ho un canale anche TikTok non credevo tantissimo a questo show social a livello di potenzialità poi dopo che in 4-5 giorni ho superato i 1000 follower ho detto ok quando mi sono ricreduto su determinate cose relative alla qualità di contenuti che nella media magari non è proprio fatta da intellettuali o da fisici nucleari ok però effettivamente ci sono anche dei canali validi di investimenti per cui se hai piacere di dare un'occhiata ad anteprime piuttosto che a video particolari che non sono usciti invece su su YouTube adesso mi trovo appunto su Jacopo Marini Official questo canale in cui do appunto anteprime parlo appunto di finte di target faccio anche delle live per cui se hai piacere domani ci saranno anche qui live differenti da quelle che verranno fatte sul canale YouTube appunto in questo livello avendo guardato il tecnica 2 ok che qua mi aveva dato discesa ma c'era un altro indicatore che mi lasciava perplesso sta provando a girarsi appunto a rialzo a me interessa capire una cosa fondamentale ok se noi riusciremo ad andare sopra questo livello sopra i 67.177 dollari stabilmente rimanere qua sopra e potenzialmente se fosse possibile superare il livello inferiore dell'accumo e iniziare magari a superare questo livello ok noi potremmo riprendere a salire ok certo sempre con il discorso del baffo sempre con il discorso che chiuso l'inverso poi si può scendere per far partire il sesto ciclo giornaliero in te e inverso eccetera eccetera ok però ti lascio questo livello che è fondamentale per ragionare di continuiamo a salire ok perché noi abbiamo fatto un assunto interessante e quindi se rimaniamo stabilmente rimaneremo stabilmente sopra questo livello potremmo tornare a vedere dei nuovi massimi altrimenti attenzione ok da qui tra l'altro se avrò tempo appunto domani nella live tirò fuori il grafico a candele giornaliere e ti dirò determinate cose interessanti sempre su questo tipo di massimo che è molto importante assolutamente molto molto importante a quanti giorni siamo di mensile inverso ti lascio con questa domanda buona serata grazie